Sindaco, sono appena terminati oggi i primi lavori del Consiglio Comunale, quali sono stati i punti all'ordine del giorno che avete discusso oggi? Il punto più importante era quello relativo al bilancio, perché come tutti sanno senza l'atto del bilancio non potevamo fare nessuna azione amministrativa. Purtroppo chi ci ha preceduto, quindi il commissario prefettizio, non è riuscito ad approvarlo nei tempi di legge, quindi il 10 aprile. Quindi abbiamo dovuto approvarlo noi, ovviamente per evitare la diffida anche della prefettura, l'abbiamo approvato in tempi strettissimi e purtroppo non abbiamo inserito quello che volevamo programmare. Ma ci proponiamo di farlo per fine anno, quando presenteremo il bilancio previsionale del 2017, che appunto per essere un bilancio previsionale deve essere portato in Consiglio prima della fine dell'anno. Questo era il punto fondamentale che ci permetterà da domani di avviare la nostra azione amministrativa.